A Beauty Queen Triveneto 2020, qui con noi la vincitrice Beauty Queen, Medusa Stonem, che ha vinto tutto praticamente. Tesoro, un commento a caldo? Sono molto soddisfatta anche rispetto a tutti i sacrifici che ho fatto per essere qua oggi e in questo periodo. Sono veramente, veramente, veramente grata a tutte le persone che mi hanno ispirato e anche a chi mi ha aiutato nel portare a termine questo progetto. Grazie. Grazie mille. Ci vediamo, buona serata, ciao ragazzi!